a un altro turno è fondamentale in un gioco a turni ok un achievement stavo per dire l'achievement mi aveva sbloccao Silly stavo già tipo oh mio dio ok 4 stelle bravi voi chiamate Silly bravissimi ok vediamo il 4 stelle dovrebbe essere quasi inizio multi perché appunto si è uscito quasi inizio multi quell'altro tipo probabilmente la prossima singola eccola dai top e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo il banner dei 4 stelle l'abbiamo completato ora vediamo quali saranno gli eventuali personaggi che escono poi quindi oh ci siamo eccoci achievement per il primo 5 stelle immagini infatti guarda il ticket tutti i colorini arcobaleno li hai visti? sono stati? sono stati? stavo guardando la chat perdona questo è scemo va bene luce dorata ci siamo luce d'oro ma ma viene spazzato via il bimbo io ma come era accorta quando bulla io che il bimbo veniva spazzato via come non l'avevi visto? mi ero piegato in due da ridere no io no perché appunto avevo notato la luce dorata e mi ero concentrato su questo ok un'arma destruction quindi può essere magari utile per lo starter vediamo 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 adesso ti senti male? no è la prossima ti senti male? non ci credo Simo no ma l'avevo detto che usciva lui come funziona di drop? basta cercare su internet io non ti ho dato il via comunque 5 stelle 5 stelle Simo non ci ho fatto caso non ti ho nemmeno detto di tirarla io sinceramente stavo parlando con la chat stai fermo ora stai immobile grazie io no deathbeds grazie per il follow benvenuti in live vai 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 lurido vai lurido è un'altra persona per piacere vai eccoci oh le boobs seguitemi su tutti i social se non legna la moderatrice vi mangia vivi oh 5 stelle Esther 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle non lo vedo non ti preoccupare l'ho visto io 5 stelle può essere può essere qualsiasi può essere qualsiasi perché non siamo a fine pd ok vediamo ok può essere qualsiasi richiamali richiamali la top 3 belt bronia imeco ok è uno dei tre dai bronia imeco dai c'è uno dagli altri però no vabbè è l'inizio è l'inizio si 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 vanno bene tutti dai dai eccoci no no la federica ora tempo si strappa i capelli la federica si strappa i capelli tutti che si strappano i capelli siamo ma poi che erudition era harmony scusate ho sbagliato io harmony ok 5 stelle l'hai visto un ticket dovrebbe sopra l'arcobaleno hai visto come ha fatto l'animazione più o meno più o meno non l'ha ancora più o nemmeno fantastico ok vai lu vai lu bravi ragazzi così tutto insieme ok vai lu vai lu vai lu vai lu più o meno era palesemente un no ragazzi vediamo ci siamo quasi un'altra c2 c2 oh in ecco quasi praticamente okram ecco 5 stelle oh mio dio chiara grazie per il fallore di lei ragazzi 5 stelle nel banner di sili attenzione attenzione qui le opzioni sono due o è sili o vogliamo bailu oppure yan king oppure yan king attenzione primo 50 e 50 di okram sul star rail ok si no yan king yan king eccoci qua noi vediamo leggermente in ritardo ma arlux arlux allora non dire nulla perché noi vediamo in ritardo quindi non sappiamo quando vedi te io non ho parole ragazzi non ho parole tu vai tu muori in silenzio ti dico io quando puoi palesare il tuo entusiasmo quando vediamo anche noi cioè prima multi manco sei iniziato manco sei iniziato letteralmente io vi giuro dove è il suo 5 stelle ti avviso quando lo vediamo noi ok clara eccolo non molto contento di essere figlio di simone ti capisco non so ecco 5 stelle arlux non dire nulla non dire nulla perché non so quando vedrete i trade quando vediamo noi non dire nulla ok stai occhi chiusi si oh dio aprili va bene va bene hai trovato suo nonno hai trovato suo nonno io penso che sia il personaggio top da trovare nel banner permanente peccato che sia qua e non di là però gg come cavolo si pronuncia lui lui ragazzi se c'è qualcuno di nazionalità cinese in chat o che sta studiato cinese quindi sa bene le pronunce e ci vuole illustrare in maniera come si scrive come si pronunciano alcuni personaggi ci farebbe un grandissimo favore grazie mille vediamo intanto qua che tanto dovrebbe essere l'ultima della molti eh già ci vuole far morire fino alla fine ok un altro light con 4 stelle non ce la posso fare no l'Eliana Eliana no io penso l'Eliana si strappi tutto cioè stanno trovando hanno trovato tutti tranne Simone l'Eliana 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 mi esce qualche accesso clamoroso io lo so me lo merito me lo merito perché ero in Sicilia ma che bello che eri in Sicilia sei andata a trovare l'Eliana ok allora vediamo vediamo se è la prima oppure no vediamo ok andiamo lisce allora 5 stelle dai raga siamo alla quinta multi si che c'è il 5 stelle ora vediamo mio gatto vuole uscire lo sento grattare alla porta ma prima voglio vedere il 5 stelle poi li apro dai serval buona nessuno è uscito una copia di serval buona c1 ok si oh eccolo no Eliana Eliana non dire nulla io intanto guardalo 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 guarda il coniglio adesso col fumo guarda eh eccolo vediamo 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 il 5 stelle può essere qualsiasi perché siamo prima del piti il coniglio scaraventato ragazzi penso sia la cosa più bella del mondo ma come cazzo gli è venuto oh bella bella ok ok oh però comunque ok vai Lu che carino che ragazzi tra il suo tempo è stata anche un po' male quindi non capisco se la tosse sia un po' perché gli è rimasto un po' di remasuli tosse o se il vero è niente fa lo stupido stavo per disinstallare allora Zeku ha scritto se fai skip oh 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle il coniglio che si butta lo guardia il coniglio viene scaraventato nello spazio eccolo ci siamo chi è dov'è cos'è oh l'arma per Clara come ti si distalla questo gioco aspetta ha già il suo destino questo è 70 oh 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle il coniglio sta per volare il coniglio sta per volare il coniglio se no veramente Sili 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 yes la prima Sili di oggi questa è la multi è lì non si c'è manco nemmeno da rifletterci 5 stelle ci siamo dai dai penso che tutti siamo innamorati di Cocolia cattiva e mammi cioè letteralmente letteralmente cosplayerei Cocolia che ansia adesso però aiuto voglio saperlo o non voglio saperlo oddio mio io ho in ansia per te ti giuro mezza morta sul colpo dov'è il 4 stelle? Peppi 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 la seconda prefe amo dai la seconda prefe dai dai ci siamo ticket che gira arcobaleno e ci siamo è il momento spam in chat spam in chat di emoticon su 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 scaraventato il nostro povero pom pom nello spazio e andiamo a prenderci 5 stelle nell'account di Stella artefattino lightcon barra armettina come cavolo li vogliamo chiamare lightcon per March no per Asta scusate per Asta tra l'altro quell'immagine è bellissima di Asta ce l'ho sul telefono salvata per Asta e e andiamo prossimo imeco per Stella dai 5 stelle ecco il ticket arcobaleno si va usc paxo paxissimo coniglietto lanciato nello spazio boom che vola via ok abbiamo l'art il lightcon per sample proseguiamo ci siamo non ci credo non ci credo questa multina ticket che switcha 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle 5 stelle abbiamo 5 stelle abbiamo 5 stelle aiuto 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 no non gli chiamate che è perduto due volte ragazzi sei cattivi un bel lightcon per Aerta a pofeli grazie per farlo benvenuti live clara non ci credo gliela chiamata porcello clara doppio personaggio usc che bello niente arma non troviamo tutti l'arma in questo banner finalmente doppio personaggio 5 stelle 5 stellissimo 5 stellissimo 5 stellissimo 5 stellissimo eccolo esatto quello con il leone tizio esattamente lui 5 stelle vediamo Albi vediamo vediamo cosa esce ci siamo andiamo lightcon per uc perfetto perché hai trovato 87 uc quindi hai trovato anche il suo lightcon e signori e signori prunia bella non l'aveva trovata nessuno oggi braga che le mie pool sono tardi però insomma oh 5 stelle in singola ragazzi 5 stelle in singola pt1 pt1 il lightcon per clara oh ci devo ancora trovare clara ragazzi non c'è verso 5 stelle in singola no Albi non verrai bannata in breve puoi sempre riempirmi il banner di Baizo in questa settimana con calma non ti bannerò ci siamo biglietto che rotea 5 stelle biglietto 5 stelle ce l'abbiamo ce l'abbiamo altro lightcon che gli mancava cioè non gli sova le copie lui 72 73 74 si si ha già fatto tutto 75 76 77 78 yang king niente sili abbiamo trovato yang king che è il corrispettivo perché sempre anta anche lui qua 65 c'è il corrispettivo il corrispettivo può non Studios 6 Ebola però va senza signe уст ho o bugs